Oggi io voglio un tuo commento. Torno a parlare di tradimento, tra l'altro fa pure rima. Ok, ne abbiamo parlato giorni fa, però ironia della sorte, oggi mi arrivano due email proprio di persone che parlavano appunto di questo argomento. Ora sono cose riservate, quindi mi fermo qui. Ok, però oggi volevo parlare di questo proprio per sapere della tua opinione. Cos'è che tu pensi quando una persona tradisce? Pensi che tradisce perché è una persona di poca etica o pensi che sia una persona che segue invece un'onda derivante da uno schema genealogico che non vuol dire famiglia di traditori? E cosa pensi del tradire? Se hai mai tradito? Cosa pensi di tutto questo? Scrivilo tra i commenti, qui sotto, perché la tua opinione può costruire un qualcosa di importante. Tra l'altro domani, martedì 23 novembre, ore 20.45, ti ricordo che saremo in live su Zoom. Quindi mi raccomando, vai in descrizione, clicca su netacademy.net slash live, fai anche la tua donazione per cortesia e per supportare il nostro progetto. C'è un sacco di gente che ci sta aiutando grazie di cuore. Mentre stasera invece, lunedì 22 novembre alle ore 21, siamo su YouTube e su Facebook con l'analisi delle vostre date di nascita e la scansione che io vi faccio a distanza. Cioè vedo quello che è accaduto a te, alla tua famiglia a distanza. Bert Hellinger, il padre delle costellazioni familiari, ha un'opinione ben precisa rispetto al tradire, al reccare, tra virgolette, danno agli altri. Io negli anni, ti dico, ho riconosciuto determinati schemi che ti assicuro che si ripetono sempre, sono sempre gli stessi. Personalmente, come la vedo, che il tradimento è il risultato di un insieme di informazioni che porta la persona inevitabilmente al tradire o all'essere traditi. Sembra una barzelletta questa, ma è la realtà. E poi, come comportarsi di fronte a un tradimento? Va raccontato o non va raccontato? Poi, la persona che ha tradito va messa alla forca? Oppure va perdonata? Perdonare serve a qualcosa? Quindi commenta e poi ricordati domani, qui c'è la locandina, come mettere in ordine il tuo albero genealogico. Dobbiamo insieme capire come venirne fuori rispetto delle dinamiche. Se tu hai un obiettivo, ricordati sempre, tu lo puoi raggiungere, ma devi sempre scoprire cosa sta dietro che lo sta bloccando. Se hai, ad esempio, un socio che ti tradisce, se hai un collaboratore che ti tradisce, credi che io nella mia vita non abbia avuto situazioni di persone che mi hanno tradito nel lavoro, ne ho avute. Non ti preoccupare che ne ho avute. E quindi so cosa vuol dire, ma so anche come è nato tutto quello. Ho scoperto lo schema. Il fatto è che ci sono a volte schemi che tu ancora non hai compreso. E quindi tutti insieme dobbiamo comprendere di più questa realtà che ci sta attorno. Quindi mi raccomando, dammi la tua opinione, ma non essere cattiva. Ti prego, come cattiva o cattivo, nella risposta. Perché non costruiamo niente con la cattiveria. Non deve diventare un video dove sfoghiamo le nostre labbie, ma piuttosto come secondo te il tradimento si comporta dentro nel nostro inconscio, dentro la nostra testolina. Bene, ti aspetto stasera qui in live su YouTube, su Facebook e domani su Zoom. Un abbraccione grande, 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 grande dal vostro fabionezzac.net e dal nezzacademy.net slash live. Ciao!